Start, 2, 1, instantly ignition and liftoff! Grafica con vista dall'alto, aveva anche degli ottimi elementi di stealth, mentre qui invece abbiamo un gioco in simil 3D, 2.5D, insomma con visuale isometrica, movimento con WSD, è fondamentalmente un gioco di ruolo con la permadet. La permadet comporterà la possibilità di scegliere se continuare con un membro della discendenza del personaggio appena morto, piuttosto che rigenerare un nuovo mondo. Vi dicono che ci potete giocare anche un centinaio di ore e ci saranno sempre comunque cose nuove da poter magari scoprire. Niente, lo proviamo insieme. Ho deciso, dato che il tutorial mi è particolarmente piaciuto, di iniziare da lì e farvelo vedere direttamente da quel punto, da inizio inizio. Praticamente noi abbiamo una data, abbiamo le prime istruzioni e ci muoviamo con WSD all'interno di questo mondo, in stealth shader. Pull lever, quindi tiriamo la leva. Il gioco costa 21€ senza sconti, poi adesso che lo sto registrando passa a 14,99€. Draw weapon con la F, praticamente noi premiamo F, togliamo le armi e con il tasto destro usiamo la mano sinistra e con il tasto sinistro usiamo la mano destra, tutto invertito. E ora possiamo andare ad attaccare. Cosa che non mi è piaciuta particolarmente è il metodo di attacco. In pratica vedete che non si vede quasi il colpo perché fa lo scatto. Con lo shift possiamo shiftare la telecamera da una visuale più vicina, più vicina ancora, a una lontana e preferisco tenere questa. L'inizio il gioco ci fa combattere contro queste tori che non si difendono in modo da farci capire come è la meccanica di attacco e soprattutto la meccanica di sblocco di queste porte del tutorial. Con il tasto sinistro del mouse possiamo tenere lo scudo attivo. Vedete che non subiamo danno. Abbiamo preso un punto vandalismo. Vabbè comunque andiamo avanti. Abbiamo tenendo premuto il tasto sinistro la possibilità di fare il mega attacco. Ok. Ma il bello deve ancora venire perché poi a breve vedremo anche le meccaniche di stealth e le meccaniche di investigazione che sono molto interessanti. Ora abbiamo un tizio che ci attacca. Il combattimento è andato a buon fine ma è un tutorial. Non abbiamo altro da vedere quindi saliamo climb up sulle scale. Vediamo che succede. Ora nuovo piano, nuovo tutorial. In questo caso, vabbè, vedete che lui si ripara. Non riusciamo a fargli danno. Perché dobbiamo andare qui e prendere questi due. Quindi praticamente dobbiamo equipaggiare premendo il tasto tab le due lance. Le daga da lancio. Perché? Perché praticamente vedete abbiamo due e più la spada. Una grafica simile ma in realtà una spada e uno sono non lance ma coltelli da lancio. Abbiamo vabbè lo zaino e tutto. Col tasto 1 e 2 passiamo, vedete, nei due slot da uno all'altro di attacco. Praticamente noi con il tasto 2 passiamo a queste dove abbiamo modo di lanciare il nostro la nostra daga prenderla e fare nuovamente la cosa verso quello. Perché in pratica quando ci vede va a ripararsi con lo scudo. In questo caso veniamo messi, diciamo veniamo avvisati della presenza della possibilità di colpire anche a distanza. Ora abbattiamo questi questi ratti vedete che in questo caso premendo quella piattaforma abbiamo aperto la porta ma la porta non è aperta del tutto. Adesso vi farò vedere. Praticamente qua vabbè recuperiamo anche una porzioncina che usiamo col tasto Z in questo caso ce lo sta dicendo il gioco non lo uso perché ho perso solo un punto. In questo caso avvicinandosi io non l'ho ancora appresa bene la meccanica però in sintesi praticamente abbiamo una percentuale prende anche delle connotazioni un po' da gioco da tavolo di provare a passare un test di fortuna fisico di fortuna praticamente noi abbiamo la possibilità di pescare carte perdendo ogni volta qualcosina a livello di meno 5 di questi cristalli questi sì sono queste cose scintillanti qua e andiamo a dare ad avere delle possibilità in questo caso aggiunge praticamente al mazzo delle possibilità 3 successi ma al costo di darci fatica quindi ci dà fatica ma in questo caso vedete che abbiamo pescato un successo che utilizziamo immediatamente e possiamo andare oltre abbiamo accumulato fatica io onestamente non so ancora dove si vada a vedere la fatica ma dovrebbe essere vedete qua sotto abbiamo quelle quelle cose scintillanti e la fatica e la fatica dovrebbe essere questa infatti praticamente ci muoviamo più lentamente siamo anche dei vandali sono i due tratti che abbiamo accumulato come un roguelike premendo il control sinistra ci muoviamo silenziosamente muoverci silenziosamente ci porta fondamentalmente a due vantaggi quella di poter muovendosi vicino una parete di rimanere nascosti ma soprattutto di poter beccare vedete in questo caso una trappola in questo caso o ce ne freghiamo o premiamo quella giusta e premiamo quella giusta oppure proviamo a disarmarla io provo a disarmarla vediamo se siamo fortunati in questo caso io non ho ok qua un fallimento e scatta la trappola quindi io decido di pagare 5 vedete che qua in basso a sinistra ho speso 5 spendendo 5 io decido non di prendere il fallimento che mi provocherebbe del danno ma prendo 3 successi e ne ho pescato 1 quindi ce l'ho fatta pensate che nel tutorial precedente oltre ad essere diversa la mappa avevo sbagliato in sintesi qui non succederà nulla anzi probabilmente abbiamo aperto anche un passaggio segreto perché quello vero per il passaggio è lì la prossima stanza è sorvegliata da due sensori ti riconoscono quando vai vicino alla porta quindi dobbiamo andare in modalità caution questa stando vicino alle pareti in questo caso non sono in modalità caution cautious come il carico si dice e avvicinandoci alla parete non potremmo essere rilevati infatti tecnicamente non dovrebbe vedete che siamo anche abbiamo questa questa ombra su di noi ora altra cosa rimaniamo sempre in questa modalità e il gioco ci dice guarda la porta davanti a te è chiusa con una chiave e in questo caso abbiamo spottato la chiave nel pozzo quindi la prendiamo e ci appropriamo ad andare avanti ora recuperiamo queste come si chiama spark sì queste scintille insomma così che sono quelle che alla fine ci servono anche per al momento ci sono servite solo per aumentare la nostra possibilità di vittoria nelle varie prove ora usciamo trovate una cosa molto interessante adesso vi farò vedere perché c'è anche la mappa qua siamo all'esterno possiamo ciclare la camera quindi come vi ho detto così così ho un punto intermedio questa è la più vicina che ricorda molto unexplored 1 per quanto fosse più particolare l'1 a livello grafico perché sembra proprio un disegno allora investigate su questo questo è molto carino deciferiamo la scritta in questo caso abbiamo pescato non c'erano successi credo però in questo caso ne aggiungiamo costo 0 3 ne peschiamo 1 e lo peschiamo no aggiungiamo altri 3 successi e ne peschiamo questo ci aggiungiamo aggiungere fortuna ok in questo caso dovremmo poi pescarlo per forza no questo ci costa tempo qua falliamo quindi spendiamo 5 dei nostri 21 e peschiamo un successo e ora possiamo finalmente interpretare la scritta che dice il saggio non fa pipì contro il vento va bene è questo è giusto una massima oh è calata la luce le ombre tutto il mondo è fatto veramente molto carino le distillazioni di cure sono rare preziose quando hai una chance dovresti prendere cibo e mangiarlo mentre stai facendo campeggio così recupererai un po' di ok i tulipani vanno bene lo stesso adesso va bene harvest turnip ok prendiamo questi turnip ok che tra l'altro dovremmo poi avere avere anche nello zaino no abbiamo solo nei quick item e nient'altro vabbè lì c'è un coniglio investigate merdus vabbè non mi chiamo così io vabbè prendo col doppio click da questa sacca da questa questa cosa qui ho preso un una coscia di pollo che era dentro lì di qualcuno probabilmente morto investigate vediamo no è il sì che pirla è il coniglio che è ucciso vabbè andiamo avanti si può cadere di sotto questo sembra un bel posto per accamparsi il il cancello si aprirà non appena arriverà il sole allora vediamo un attimo no non si può cadere giù ok sembra un bel posto per accamparsi e quindi il cancello si aprirà ok investigate il cancello sbarato si aprirà automaticamente la mattina ok devo devo mettermi qui quindi sono affaticato ok non mi ricordo onestamente ok start camp con c ok iniziamo il camping ti permette al viaggiatore di mangiare cibo recuperare vita riparare gli item e riposarsi per recuperare anche dalla fatica e risettare le skill che possono essere solo usate una volta al giorno molte azioni faranno avanzare il tempo puoi solo prendere 4 azioni da camping in un giorno intero e questo è una bella un bel concetto gioco di ruolo perché ogni volta che ci chiedeva tempo passava la giornata quando facevamo le nostre prove per le varie prove insomma per pescare il token giusto per vincere la prova fare un fuoco ti aiuterà recuperando dalle condizioni di fare bagnato e ti permetterà di cucinare o conservare il cibo che potresti aver collezionato lungo la via in alto a destra puoi vedere il eccolo qua il campeggio e le condizioni di rischio che potrebbero interrompere il tuo riposo ok very low exposed ok possiamo fare light of fire ok appena acceso un fuoco ti permette di cuocere il cibo e allo stesso tempo potrebbe attrare attenzione un fuoco è un buon modo per fare avere un riposo un viaggio più confortevole si vabbè ti dovrebbe far asciugare va bene abbiamo wait until night rest 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 until night mangia un cibo no non lo bisogna recuperare vita conserva il cibo prendi tempo per conservare il cibo vedete che qua sta andando a male quindi tecnicamente dovrei conservare il cibo è diventata notte voglio conservare anche il resto ok wait until morning ok siamo alla mattina rompiamo le righe questo lo posso demolire ok la visuale mi torna lì e non mi piace andiamo qua e io continuo prima per correre ma in realtà mi sposto la visuale ok abbiamo un la staff di Yendor che io prendo ora appena raccolto la staff di Yendor è la missione è la missione la missione del viaggiatore vedere questa staffa distrutta allo stesso tempo è anche un potente oggetto magico che permette al viaggiatore di controllare risorse magiche equipaggio la staffa ok equip and equip staff use staff con la Q me ne equipaggio da solo si non so perché me l'abbia già messa ah ok perché qua abbiamo i preset più questo quindi praticamente io premendo F tecnicamente potrei passare a uno o l'altro le cose con la Q passo invece alla staffa la staffa mi permette di investigate aspetta è sbarato c'è una sorta di leva per aprirlo vediamo un po' qua ah magic missile qua ho caricato l'incantesimo ok la magia arriva ad un prezzo aumenta la presenza del del viaggiatore la presenza influenza quanto velocemente il rischio di incontri risalga lungo l'accampamento lungo il riposo in accampamento potrebbero ecco appunto potrebbe darci dei problemi di assalti insomma quello che abbiamo appena usato adesso a livello di incantesimi non ha portato troppo rischio ha aumentato la presenza a livello 2 usando lo stesso incantesimo non aumenterai la presenza più di quanto lo hai già fatto ora fino a quando non userà l'incantesimo con abbondanza in questo caso la presenza potrebbe essere spinta a un livello più alto il miglior modo di ridurre la presenza è viaggiare quando arrivi alla tua destinazione senza guadagnare nuova presenza la presenza è ridotta di 2 tra l'altro la presenza è qua sotto la vedo ora quindi si lo lancio ancora la presenza non è salita ma l'abbiamo sempre la presenza si ma se esco da questo cerchio tecnicamente infatti non ce l'ho più quindi agiamo solo all'interno di queste regioni qui io non voglio onestamente bruciarmi la tranquillità oh cos'è questo magic missile no non mi interessa fammi passare la spada entra cave ok entriamo nella grotta bello perché mi dà proprio l'idea proprio di storia raccontata anche se siamo nel tutorial però è molto molto interessante con il tasto M vedete dove ci troviamo e vediamo la mappa con le varie cose di rischio insomma però vabbè adesso siamo in un dungeon qualche volta potresti perderti bloccato o buttato fuori insomma messo in difficoltà in questo caso puoi sempre avere l'opzione di ritirata solitamente la ritirata ti riporterà al livello di entrata precedente se vuoi ritirarti pulisci cioè pulisci libera le mani e tiene in punto il destro per un momento per avere salva la vita ah ok ho una faretta un lockpick e una torcia molto interessante e qua abbiamo un cos'è questo? ma devo avere la staffa piercing root figo ma è bellissimo ok non voglio non voglio esagerare quindi lo metto via non voglio attirare attenzione voglio mettermi in modalità cautious infatti mindside filter non so cosa ho trovato questa non so cosa ho trovato ma una chiave forse musica molto bella fatemi vedere qui cosa c'è lockpick ok adesso abbiamo il lockpick perché li abbiamo trovati prima quindi andiamo a allora aggiungi fortuna fallito rompiamo il lockpick io spendo 5 di questi punti e ce la facciamo e all'interno troviamo un arco e un rough carving una una scultura ok andiamo avanti investigate devi trovare una leva per entrare perfetto scusate ma io avevo eccola lì la leva no light accendiamo la luce accendiamo la luce che sia un tipo uno zelda che bisogna aprire tutte le luci per passare non lo so comunque non credo di avere la possibilità di usare la staffa per fare altri danni continuiamo a esaminare comunque premendo il tasto destro abbiamo la possibilità di saltare il tutorial quindi praticamente perché non voglio andare avanti new game possiamo scegliere la difficoltà che faremo standard abbiamo le opzioni iniziali quelle scelte quindi un easy word gli incontri saranno con nemici facili possiamo disattivarlo riattivarlo insomma mettere quello che voglio qui possiamo non avere pozioni possiamo scegliere la nostra opzione di gameplay i contenuti quindi inizia col prologo contenuto casuale e random seed per creare ok random chart o new chart quindi adesso andiamo a fare a scegliere la cultura vedete che abbiamo queste e le altre bloccate la razza grus che sono delle gru umani o tlingaklong diciamo umani background se siamo dei discepoli al momento che non sono questo tratti endurance sensi aumentati possiamo scegliere quanti ne vogliamo sì gli mettiamo una una graduatoria le skills archery empathy formal education pacratta riduce l'appesantimento di ogni item non di combattimento di uno che interessante però facciamo archery anche questo però e anche formal education empathy va bene equipaggiamento possiamo andare a scegliere equipaggiamento in questo caso il mio gear è questo posso cambiare l'arma principale prendo una spada va bene overview questo è il nostro con il nome quindi in questo caso indie la voce è disciple umano ok cioè voglio farvi vedere anche questa cosa perché guardando solo il tutorial uno non capisce niente ed ha un'idea del gioco totalmente sbagliata perché il tutorial serve a far vedere le meccaniche poi all'inizio del gioco è tutta un'altra storia perché si crea il personaggio si crea il mondo e così via viene generato il mondo il mondo che potremmo ottenere come vi ho già detto all'inizio anche nel caso in cui dovessimo morire perché il nostro personaggio si resta morto ma in realtà entreremo con un suo successore un suo familiare intanto qua abbiamo l'inizio e abbiamo la staffa che dobbiamo distruggere il mondo non è bellissimo qui dico la verità perché siamo in questo zona fredda di 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 selvaggia insomma e qua ci parla una figura incappucciata peccato che non sia in italiano perché sarebbe stato bello essendoci anche una buona componente di di storia comunque vabbè qua non si può andare che succede che succede no non voglio ok scappiamo di qua journey onward ok e quindi viaggiamo qui return to area no aspettate all travel all travel a valley andiamo alla caverna si la zona non mi fa impazzire questa cosa tutta violetta però vabbè explore area e quindi abbiamo visto anche la meccanica di movimento ora abbiamo una grotta dovremo guardare all'interno che cosa c'è giocandoci le nostre carte graficamente è devastante sto colore siamo arrivati in una mappa nostra destinazione sulla tua via per haven puoi esplorare se desideri ma non devi per forza se tu hai bisogno di cure o riposarti potresti ok ma stare attento alcune volte queste location possono essere abbastanza pericolose le rovine anche e le caverne sono raramente disabitate ok la tua prima priorità dovrebbe essere prendere portare la staffa di endor to haven per continuare il tuo giorno il tuo giorno il tuo viaggio semplicemente ok praticamente dice la puoi esplorare ma potresti anche semplicemente andartene tornando in viaggio e andando avanti ma haven io non so dove sia ma potrebbe essere anche parecchio lontano bella sta cosa del viaggio mi piace tantissimo camera è anche piuttosto grande e non lo so su steam ha delle recensioni abbastanza nella media per lo più positiva quindi non è negativa però sembra guardando le recensioni che abbia avuto dei giudizi un po' più fare di rispetto all'uno ma cavoli è bello cavoli bello 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 anche le meccaniche comunque da gioco di ruolo da da roguelike adesso l'unica cosa voglio entrare nella grotta e morire come ultima prova così proviamo un po' tutte le possibilità e comunque anche gli oggetti cioè hanno ragione gli sviluppatori quando dicono ci potete giocare cento ore vabbè magari in un cento ore però cavoli ok vediamo un po' cosa succede qui salve ok e questa è la zona pericosa e non lo sappiamo cosa succede se ok intanto io mi faccio uccidere ok siamo morti e sei morto ed è come è stato perso questo viaggiatore cercando di raggiungere Aven e lo staff non è stato lo staff non ha mai raggiunto la 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 staffa non ha mai raggiunto la sua salvezza insomma va bene quit vediamo un po' play e me ne fa fare un altro sì tecnicamente dovremmo poter no mi fa fare di nuovo il il tutorial mannaggia skip tutorial eh no me lo fa fare eh non me l'ha tenuto probabilmente perché non ho finito il tutorial comunque va bene ragazzi questo era un explorer 2 fatemi sapere che cosa ne pensate perché sembra veramente veramente figo vale 21 euro per gli appassionati secondo me assolutamente sì eh è in inglese quindi se conoscete l'inglese la mia parte di questi giochi vale invece lo sconto che c'è adesso che poi sicuramente tornerà di 15 euro eh cioè a 15 da 21 a 15 euro e io mi rispondo altrettanto assolutamente sì secondo me comunque sotto nei commenti avete l'opportunità di dirmi il vostro parere riguardo a questo titolo se l'avete già fatto se vi ha convinto se l'avete scoperto magari addirittura grazie a questo video alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie a tutti